Pazienti e familiari sono preoccupati per l'annunciato spostamento del reparto di diabetologia dall'ospedale alla Casa della Salute di Barriera Milano. Il direttore generale dell'azienda sanitaria Luca Baldino in videoconferenza ha motivato il trasferimento con la drammatica carenza di spazi del nosocomio cittadino. Carlo Fantini, presidente dell'Associazione Diabetici di Piacenza, ha spiegato che i problemi sono rappresentati dall'assenza di parcheggio a Barriera Milano, dalla scarsità di mezzi pubblici che servono l'area e dalla distanza con la farmacia dell'ospedale per la distribuzione dei medicinali necessari al diabetico. Le persone seguite dal reparto sono 5.000. L'ASL si è impegnata davanti ai sindaci a proseguire il confronto con l'associazione per creare un percorso condiviso. L'azienda sanitaria sta pensando anche di trasferire una serie di attività amministrative in un immobile nei pressi di Barriera Milano che si appresta ad affittare dalla provincia.